Oh Piero, non ti ho detto una bella novità. Che è successo? La settimana scorsa ho preso un cucciolo di cane. Un amore, un amore, bello, tenero, bravo, affettuoso e veramente ne sono innamoratissimo. Però ha un difetto, è pigro, molto molto pigro. Pensa che è talmente pigro, talmente pigro che quando vuole uscire anziché portarmi il guinzaglio mi porta direttamente le chiavi dell'auto. Ehi, mo te lo dico, mia moglie la settimana scorsa ha pensato che lei è un cane. Ah, che bello, sono contento. Non te l'ho detto perché è una cosa che ti volevo far vedere direttamente. Aspetta che ho qua, è un pincher, aspetta dove sta? Ecco, vedi? Bellissimo, che amore, tenerissimo. Guarda anch'io, anch'io ho la foto, aspetta vi faccio vedere, il mio è un chihuahua. Guarda, guarda, guarda. Oh, bellissimo. Bellissimo. E come l'hai chiamato? Lessi. E tu? Scrisi. Allora, guarda. E noi amm ah���o, dieto pianta, inqu sera una piossa. Oggi, è un senso. Grazie a tutti.